Per Andrea Alessi, 32enne, nisseno è stato fatale lo scontro tra la moto su cui era passeggero e una Golf Volkswagen in via Pietroleone. A condurre in mezzo un suo amico di 40 anni, ferito in condizioni serie, che avrebbe riportato traumi alla testa e agli arti, ma non in pericolo di vita. Sotto sciocche e illesi, i due coniugi a bordo dell'auto coinvolta nell'incidente mortale. Nonostante i soccorsi siano stati immediati, è stato inutile il tentativo di trasportare il giovane al Sant'Elia e arrivato in ospedale già privo di vita. Sul posto sono intervenuti sia la Polizia Municipale che i carabinieri del nucleo operativo di Caltanissetta e mentre le indagini accerteranno la dinamica dell'incidente, da una prima ricostruzione pare che lo scontro tra l'auto e la moto sia avvenuto frontalmente. Numerosi i messaggi rivolti al giovane Andrea di Cordoglio da parte di amici e conoscenti.